A tutti voi che domani sarete a Dolomiti Pride, il mio abbraccio e vi dico che il mio cuore sarà con voi. Io sarò al Pride di Roma, un Pride importante dove saremo migliaia, dove ribadiremo a questo governo che sui diritti civili non si torna indietro, che i bambini arcobaleno esistono, le famiglie arcobaleno esistono e che non accetteremo oscurantismo e il ritorno al meglio ego. Abbiamo scelto tutti insieme di partecipare all'Onda Pride, quindi ognuno farà le sue manifestazioni in tante città ma il grido sarà lo stesso. Vogliamo uguaglianza, vogliamo dignità, vogliamo laicità, vogliamo libertà. Ecco, questo è il Pride, un grido di libertà nel rispetto pieno dell'articolo 3 della Costituzione.